Un progetto per rendere il campo sportivo carrano di Santa Maria di Castellabate una struttura polivalente e più capiente. Questi gli obiettivi che l'amministrazione di Castellabate si è posta per la partecipazione al bando sport e periferie del CONI. L'importo stimato dei lavori è pari a poco meno di 750 mila euro, somma che verrà ricercata intercettando i fondi liberati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede la possibilità di riqualificare appunto infrastrutture sportive. Il progetto a cuora della SD Polisportiva Santa Maria Cilento prevede la realizzazione di tribune per aumentare la capienza degli spettatori da 500 a 900 posti, l'inserimento di un nuovo locale spogliatoio e per i servizi igienici regolamentandoli per i diversamente abili, la realizzazione di usciti di sicurezza e di un impianto fotovoltaico al fine di ridurre i costi di gestione e che permetterà anche il potenziamento dell'illuminazione sul terreno di gioco. Inoltre per ampliare l'offerta sportiva il progetto prevede la realizzazione di un campo di bocce con la fornitura di attrezzature aggiuntive.